Ciao a tutti! Oggi impareremo queste nuove lettere dell'alfabeto arabo. MIM, NUN, HÈ Ed ora vi faccio sapere come si scrive queste lettere. MIM, NUN, HÈ MIM, MATAR significa pioggia. MIM, TÀ, RÀ MATAR significa pioggia. NUR, NUN, NUR significa luoce. NUN, WOW, RÀ HÈ, HÀRAM significa piramide. HÈ, RÀ, MIM BIRAMIDE Ciao e alla prossima!